buongiorno a tutti eccoci dallo splendido scenario della reggia l'ora dei traversi sceglie sempre location insomma di un certo livello la reggia il momento secondo me più bello al mondo avversario non se la vede proprio a tutto il rispetto ma comunque insomma veniamo allo sport riccardo riccardo zamora riccardo con una c non ivan è passato tanto tempo io non c'ero riccardo zamora sulla velocità sportiva portiere leggendario degli anni 20 30 della spagna grande rivale dell'italia che ha vinto due mondiali con la sua vita vittorio vozzo sotto la del duce che comunque teneva molto all'educazione fisica dei ragazzi e niente zamora sulla velocità sportiva sono non tantissime foto ovviamente quasi tutte bianche e nero quelle colorate non so come le fanno sia computer come le colorano comunque vabbè c'è qualche qualche foto a doppione è voluta di solito i doppioni un po come le figurine che mi fanno anche un po girare le scatole le cestine insomma questa volta no perché ho trovato pochi di fotografi di un'epoca insomma che ovviamente non aveva la tecnologia moderna di oggi le macchine fotografiche erano quelle obsolete insomma che ci mettevano un attivo un quarto d'oro e scattare una foto comunque vabbè detto questo due le le fotografie di zamora con combi suo grande rivale e di rimpettaio non che collega nella nazionale italiana anche bandiera giovane la juventus nel periodo anteguerra insomma la guerra seconda guerra mondiale ha mischiato un po tutte le carte zamora sulla mia pagina sportiva calcio da altri tempi emozioni senza tempo gian claudio 27 vi saluta come sempre ciao invitandovi a seguirlo se volete sulla propria pagina dalla reggia per il momento è tutto 27